Si chiama Francesca Barbieri, è una travel blogger, quindi è una ragazza donna che ama viaggiare e vi posso garantire che oltre ad essere una bellissima donna è anche una donna molto brava in gamba perché? Perché pensate che è riuscita a sconfiggere un tumore, un cancro al seno infatti la ragazza aveva questo cancro al seno che è riuscita a recuperare subito in quanto mentre stava facendo la doccia come lei stessa avrebbe dichiarato si è accorta che aveva un nodulino al seno e quindi lo ha preso per tempo ha seguito i cicli di chemio e radioterapia e adesso è qui viva e vegeta pronta per viaggiare per il mondo in solitaria ecco io dico a questa ragazza brava, sei una ragazza che ci fa capire che seguendo le cure si può sconfiggere il tumore, si può sconfiggere il cancro che dir si voglia e che si può fare o meglio si può trovare sempre un motivo in più per vivere un motivo in più che si deve per forza trovare se no la vita che senso ha di essere vissuta e quindi voglio congratularmi pubblicamente con questa bella bellissima donna brava in gamba e di successo e di talento perché è riuscita a sconfiggere una malattia che oggi come oggi continua a mettere i vittime e al tempo stesso a creare non poca paura complimenti cara Francesca, questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la tua privacy la privacy di Francesca ma solo informare eventuali persone questo video vuole dire a Francesca brava e vuole essere un inno alla vita e alla gioia vivere è bello, guardate che spettacolo guardate perché togliersi di queste bellezze fatemi un fermo immagine e fate la foto poc'anzi come mi sono messo in posa per tenerla con voi gelosamente per appressare delle bellezze che la vita ci offre cara Francesca non sei sola sei una grande, sei una donna meravigliosa, fantastica, straordinaria sei un esempio di vita un bacio grande a te, alla tua famiglia e un bacio a tutti gli amici di Facebook e di Youtube